Federico Mollicone, non è a facoltà, prego. Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, e mi unisco al biasimo del collega Foti per l'assenza del Ministro Franco in Aula, penso che sia un atteggiamento assolutamente indegno di un Ministro della Repubblica non rispettare la Camera dei Deputati. E non è neanche accettabile, colleghi, che la legge di bilancio diventi la legge delle due notti, una in Commissione e una in Aula. Non è accettabile che il Parlamento sia costantemente ignorato nell'azione di Governo. Vedete, colleghi, non sono parole nostre, ma di un autorevole esponente della maggioranza di Governo. I colleghi di Italia Viva forse le riconosceranno, dato che provengono dal loro leader, Matteo Renzi. Perfino il leader di uno dei principali partiti del perimetro della maggioranza critica il metodo Draghi. Lo ha detto fin anche il collega Ceccanti del Partito Democratico, lo ha detto il Presidente della Commissione Finanze, Maratin. Il Presidente Draghi, vedete, colleghi, evidentemente non è abituato a confrontarsi con l'essico parlamentare. Ha trasformato il CDM in un CDA, di cui lui è amministratore unico. Viviamo nell'Italia S.P.A. Con 33 fiducia, colleghi, permettetemelo, sarebbero tutti in grado di fare il Presidente del Consiglio, altro che il Governo dei sedicenti migliori. Come ci ricorda una bellissima canzone di Edoardo Bennato, i draghi del potere, visti da vicino, ti accorgi che sono draghi di cartone. Vedete, colleghi, il metodo superficiale con cui è stato condotto l'esame ci preoccupa, per il ritardo con il quale la manovra è approdata in Parlamento, cosa che inevitabilmente ha contingentato i tempi del dibattito, con il ricorso all'ormai tradizionale maxi emendamento e alla questione di fiducia. E per i contenuti stessi, ovviamente, del disegno di legge. Irritualmente, la legge di bilancio ha avuto una sola lettura vera, reale e modificativa. Il monocameralismo di fatto, la riforma renziana, senza passare dal voto referendario, come singolarmente si lamentava il collega Lupi, fa un po' sorridere questo atteggiamento di alcuni moderati del centrodestra, che anche in Commissione, in Commissione Settima, con grande garbo e, devo dire, anche grande cortesia, ci dicono sempre che Fratelli Italia ha ragione, ma poi votano sempre a favore di questa maggioranza. Quindi, anche qui, c'è una scissione tra il volere e il potere. La Camera, vedete, è diventata un passacarte. L'opposizione di Fratelli Italia è e sarà dura, come abbiamo dimostrato, nelle Commissioni e in Aula. In ogni Commissione abbiamo presentato decine di emendamenti, relazioni di minoranza. Oggi, in Commissione bilancio, ci abbiamo anche provato e abbiamo tenuto oltre i tempi convocati, ma evidentemente avete il coltello dalla parte del manico. Colleghi, la quarta ondata in cui si incardina questa legge di bilancia pone la necessità di ristorare i settori a più alta socialità. I consumi sono cambiati, in particolare nei settori come lo spettacolo e lo sport. Quindi, accanto al sostegno, all'offerta, i ristori, appunto, va incentivata la domanda. Intanto, lo sappiamo, negli Stati Uniti, in Francia e in Gran Bretagna non si chiude. Anche la vaccination nation israele abbandona l'idea della quarta dose. L'OMS ha sempre criticato la scelta dei Paesi di vaccinare in continuazione perché, anziché avvicinare la fine, contribuiscono a prolungare la pandemia, deviando le dosi da quei Paesi che ne avrebbero più bisogno. Un tema che tratteremo in quest'Aula, grazie a un emendamento a prima firma del Vicepresidente Rampelli, che è quello, appunto, il tema posto che porremo sulla liberalizzazione dei brevetti proprio per andare a vaccinare il sud del mondo. Quindi, come vedete, abbiamo una visione di governo e una visione mondiale su questo perché il problema delle varianti è anche il problema che nel sud del mondo solo il 4%, come in Africa, è stato vaccinato. Basta, però, con i virologi o sedicenti tali, ormai influenzare in TV che cantano addirittura le canzoncine di Natale. Chi controlla ciò che dicono le Virostar, il famoso fact-checking che viene imposto anche ai parlamentari in televisione e sui canali Rai? Burioni diceva il 25 novembre 2020 che i vaccinati non potevano trasmettere il virus. Oggi mi sembra che la situazione sia diversa. Dicono tutto il contrario di tutto i cosiddetti tampognari, come ha stigmatizzato genialmente le migliori frasi di Osho. Ci vuole, vedete, una campagna di comunicazione precisa e chiara che sia di persuasione. Non ci vuole la costrizione, ci vuole la persuasione gestita dal Dipartimento per l'Informazione, su media e TV, anche locali. Dove siamo, il Presidente Marzillio Nabruzzo e il Presidente Acquaroni delle Marche, gestiamo con responsabilità la crisi della pandemia. E lo abbiamo fatto anche insegnando all'Italia che uno dei sistemi risolutivi è sicuramente la ventilazione meccanica nelle scuole. Adesso se ne accorge anche l'OMS, collega Madia, quindi non vedo la sua sorpresa. Ma qui dovremmo porre il tema delle regole e della narrazione, anche a tutela di quei medici e sanitari che sono e saranno in prima linea. Veniamo all'attualità. Con questa contagiosità, il meccanismo di isolamento in vigore mette fuori dalla vita sociale e dal lavoro milioni di persone, a fronte invece di un impatto minimo sui decessi e sulle forme gravi. Cosa ci stanno a fare in casa i vaccinati? A cosa serve il vaccino se devono stare in isolamento la prima ombra di un contatto con un positivo? E infatti alcuni esperti già propongono di modificare la durata della quarantena per questi casi. Sette giorni di quarantena, un tampone all'ottavo giorno, poi torni e magari il giorno dopo rientri in isolamento e così via. Usciamo dall'ansia dei profeti scienziati. Colleghi, le terapie intensive sono al 12% e i ricoveri nei reparti al 15%, dice la Genas. La detrazione del consumo culturale, poi, che serve proprio a sostenere la filiera del spettacolo, e avrete letto i dati rilasciati dagli esercenti delle sale cinematografiche. Questo Natale, per questa narrazione, c'è stato un crollo del 95%, ma siccome furbescamente il Ministro Franceschini e il Governo hanno lasciato il cinema aperti, non prenderanno ristori, come invece abbiamo richiesto. Solo il 5% è andato nelle sale cinematografiche nel periodo di Natale, che, come sappiamo, è quello di Traino. E per questo abbiamo presentato anche in questa legge di bilancio la detrazione del consumo culturale, che è stata la nostra battaglia fin dalla Fondazione nel 2013, per riportare le persone nelle sale, nei luoghi del spettacolo dal vivo, per riabituare al consumo culturale individuale. La realizzazione di un sistema fiscale che preveda la detrazione delle spese per l'acquisto dei beni e servizi culturali. Si declina come basilare in una nazione ricca di arte e cultura come l'Italia. La detrazione fiscale per la cultura segnerebbe una prima volta, una prima svolta a cui si affancherebbe poi l'abbassamento del vivo al 4% sui prodotti culturali, come la musica registrata. Però anche questa volta, colleghi di maggioranza, compresi alcuni esponenti autorevoli del Partito Democratico, che ora gestiscono importanti istituzioni culturali e che discettano, dopo aver fatto i ministri della Cultura dalle colonne dell'Espresso, dicendo che la detrazione del consumo culturale andrebbe assolutamente introdotta, peccato poi che gli unici a proporla sistematicamente siano quelli di Fratelli d'Italia e sistematicamente, anche questa mattina, l'avete bocciata in Commissione Bilancio e al Senato. Sono stati approvati due ordini del giorno, decidiamo come, ma realizziamo questo provvedimento di civiltà che darebbe la possibilità anche alle famiglie basso e medio spendenti di tornare al cinema, al teatro, a vedere uno spettacolo di danza, un concerto dal vivo e poterlo magari detrarselo dalla dichiarazione dei redditi, come con le medicine. Un'altra occasione mancata, colleghi, come ha detto anche Sergio Cerruti, dei fonografici italiani, sull'IVA al 4%, ad esempio. Siamo ancora una volta a parlare di una legge di bilancio in piena pandemia e mentre si discute della legge di bilancio, discutere per modo di dire, il Governo approva un decreto con ulteriori limitazioni, guarda caso, proprio per il settore delle industrie culturali, ma senza prevedere ristori o sostegni, soprattutto proprio per cinema e spettacoli dal vivo. Infatti, proprio ieri, Assomusica sottolineava come il 2021 è stato un annus horribilis, con 4.200 concerti cancellati e 250.000 imprese lasciate senza alcuna certezza. Ovviamente, non potendo discutere la legge di bilancio e vedendo che sarà impossibile discutere anche il prossimo decreto con ulteriori restrizioni, non rimane che riferire questi numeri drammatici perché almeno restino agli atti e qualcuno se ne assuma la responsabilità. Volendo, possiamo anche aggiungere i numeri dell'esercizio cimatografico, come vi ho già detto, quel famoso 90% di perdite. Adesso sicuramente non si potrà neppure usufruire dei bar nei cinema, altra limitazione assurda, per cui al bancone del bar sotto casa potrò andare sempre con il Super Green Pass, Mega Green Pass, Iper Green Pass. Invece al bancone del bar del cinema mi sarà proibito. E il motivo è oscuro e più. Ci vuole un nuovo piano ristori, colleghi, ora prima che sia troppo tardi. Lo ripetiamo da diversi giorni. La crisi pandemica ha messo a dura prova l'intero settore dello spettacolo negli anni che ci siamo lasciati alle spalle, come indicato anche dall'UTR, da Agis, da Asso Musica, da AFI, da Confindustria Cultura, dal Movimento Spettacolo dal Vivo e dalle principali associazioni di categoria della cultura, del teatro, della danza, dello spettacolo a cui va e del circo, dello spettacolo viaggiante a cui va la nostra concreta solidarietà. Perché solo Fratelli d'Italia, andatevi a vedere gli emendamenti, ha fatto delle proposte per sostenere adesso le sale riaperte, ma completee dimezzate o ridotte dal 5 al 30%. Tutti i nostri emendamenti in Commissione sono stati bocciati. Emendamenti che provenivano dalle categorie, anche quelle sopracitate. Fratelli d'Italia è a fianco del mondo culturale, dell'editoria, dell'innovazione, dello sport e della danza. Ma parliamo dell'editoria. Un rapporto ufficiale del Governo, non di Fratelli d'Italia, colleghi, presentato dal sottosegretario Moles, ci dice che l'Italia spende lo 0,0014% del PIL per il sostegno al settore, mentre la Francia lo 0,017%, la Svezia lo 0,021%, fino alla Danimarca, lo 0,041%. La tutela del pluralismo passa per l'aiuto pubblico al settore, che è sicuramente in crisi, colleghi, a causa della digitalizzazione e della pandemia. Ma nel PNRR dei migliori, dei draghi migliori, c'è solo un passaggio, c'è solo un passaggio di una riga e mezza sulla transizione digitale dell'editoria, neanche una missione. La penultima legge di bilancio, colleghi, del Parlamento è un'occasione mancata. Qualcuno dice che sia l'ultima, ma staremo a vedere dal 18 gennaio in poi. È un'occasione mancata in cui il Governo dei sedicenti migliori ha dimostrato la solita prassi di mancato ascolto del Parlamento, chiusi nei corridoi dei Ministeri e del Consiglio dei Ministri. Ve lo ricordo con chi di libertà fu un maestro, Vaclavel, la politica non può essere solo l'arte del possibile, ossia della speculazione, del calcolo, dell'intrigo, degli accordi segreti e dei reagiri utilitaristici, che piuttosto sia l'arte dell'impossibile, cioè l'arte di rendere migliori se stessi e il mondo. Concludendo, colleghi, vedo che c'è molta ilarità tra i gruppi del Partito Democratico e Italia Viva, probabilmente potevate anche rimanere a casa, perché questa legge di bilancio non ve l'hanno fatta neanche vedere, colleghi, e state lì con i Popcorn a vederla passare in quest'Aula esattamente come tutti noi. Quindi se fossi in voi non sarei tanto ilare. Per cui, colleghi, andando a concludere, io credo ancora nella centralità del Parlamento e questa continua umiliazione, concludo, Presidente, questa continua umiliazione della Camera dei Deputati e del Parlamento, così giustamente stigmatizzata anche dal Presidente Fico, è sicuramente la vigilia di un rinnovo di questo Parlamento che fa molto temere per la libertà di tutto il popolo italiano. Grazie. 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 Grazie.